Ciao ragazzi, oggi facciamo un'altra nuova esperienza, sembra una figata wakesurf, ovvero surferemo dietro l'onda che fa la barca, è una delle cose che mi piace fare, siamo qui a KLI e adesso andiamo e vi facciamo vedere e ci divertiamo. Eccoci qua, arriviamo sul pontile, sono già in barca Sergio e Cristian, stanno preparando la barca perché per fare l'onda dobbiamo avere un peso maggiore su una parte dello scafo in modo che si alzi di più l'onda e si possa surfare. Vieni a vedere, qui abbiamo una tavoletta da wakesurf, quindi una tavoletta più piccolina, con più volume e abbiamo messo solo due pinne, visto giusto Cristian, questo così possiamo fare qualche trick in più, vediamo se sono in grado. Andiamo in barca dai. Cristian ci siamo, lasciamo gli ormeggi. Sergio, ready? Sì sì, adesso vado in acqua subito allora, tolgo l'occhiale, salutiamo Walter Giandini, questo è il suo home spot dove è rimasto qua parecchie volte, insegnava no? Cristian. Beh, hai preso il posto di Walter, Cristian, alla fine. Bene, andiamo. Cos'è questa cosa? E' praticamente un specie di flap che va a pulire e ingrandire l'onda dall'altro lato, qui la barca può andare dritta senza che sia tutto il peso da un lato e lavorare meglio e l'onda un po' più pulita. Allora, adesso provo la partenza classica, facile da wake, proviamo le altre cose. Sto aspettando l'onda. Ora provo la partenza da surfista. Cerca di stare solo due secondi, fermo, sdraiato, sdraiato, sdraiata, 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 sdraiata. Sdraiata, 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 s E' un po' di tric, è il punto ideale dove provare un po' di sicurezza. Ero in Rang, mi sono casato un paio. Ero in Rang. Sto prendendo un po' di piede. Come Cristian? Non è la slasciata. C'è? Come su leone. Tu li sposi riesce a rientrarsi facilmente sull'entro. Però quelle sono giuste. Sì, tutto è più facile. wurde lì. Donate qui in questo caso vado a citizenio. Ero un po' di vista mi piacevole. Qui sono di strano? Questi capi sui. Beh, come? Vanne un cao. Ero Leadership. Flash, prossimo Siamo qui sempre Siamo qui sempre Entendete? Sempre Non abbiamo fatto, abbiamo fatto anche il 3.6 Grazie ragazzi Grazie Sergio Cristian KLI Se volete venire qua, potete provarlo anche voi Potete provarlo tutti Cristian porta in barca e vi fa provare Siamo a Sergio Quindi, appuntamento Se chi vuole provare questa esperienza, vuole dire anche Wiggle, Chinout Girretti e roba KLI Ravenna Di fronte al parco di Meraviglia Ciao